Cari avventurieri, i miei scuri benvenuti a un'altra battaglia epica intanto potenziamo gli scuri perché abbiamo vinto l'altra volta e meritiamo un potenziamento io metterei danni 300 la vita passiamo a 2000 ok ok direi che va bene ma in menu sandbox intanto vediamo quanto siamo arrivati 416 scuri complimenti ragazzi grazie veramente di cuore siamo tantissimi siamo tantissimi contro 20.000 Urukhei secondo me la vedo molto dura diamo il via alla simulazione ecco il nostro esercito contro guardate e gli Urukhei che sono praticamente infiniti noi siamo abbastanza potenziati ma la vedo veramente dura ora diamo il via alla battaglia epica ecco gli Urukhei che partono all'attacco ma non sanno che di fronte hanno i temibili scuri non ho voluto cambiare il campo di battaglia ma la prossima volta penso che cambierò addirittura il campo di battaglia non si riesce a capire se stiamo vincendo o perdendo questo sangue sembra essere degli Urukhei eh sì sì mi sa che siamo molto forti guardate l'enorme quantità di Urukhei ma sono scarsissimi sono peggio degli zombie degli scheletri ma che schifo che schifo devo mettere qualche cosa una divinità la prossima volta qualcosa che veramente faccia del male agli scuri però stiamo crescendo tantissimo quindi anche noi stiamo diventando potenti affondano, affondano le lame muoiono guardate che avanzate che ci stiamo facendo ma questa mi sa che non è una buona cosa per noi perché gli Urukhei ci colpiscono le spalle e noi alle spalle siamo molto vulnerabili infatti quelli colpiscono le spalle e ci fanno il mazzo tanto come si dice nel frattempo aspettate ho una chiamata vediamo che mi disturba oh Vessatot carissimo sì eh sto facendo la battaglia epica sì sì chi vuoi picchiare? i puffi no i puffi no i puffi no dai poverino lasciamoli in pace comunque Vessatot sta andando alla grande molti stai ricevendo molti fan molti fan sì 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 sono contento per te Vessatot anche se adesso c'è un nuovo c'è un nuovo eroe che si sta facendo fila tra il cuore dei fan sì 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 eh non ti dico il nome se no finisce vabbè devo chiudere la telefonata ciao Vessatot ciao ciao che rompipano allora ok no no mi sa che abbiamo perso alla grande infatti abbiamo perso alla grande vediamo solo la differenza allora 20.000 ne abbiamo uccisi appena 3.000 mamma mia abbiamo perso alla grande quindi ancora ho bisogno di scuri abbiamo perso di brutto questo esercito di ruccai ci farà penare la pena almeno che non arriviamo almeno a mille la vedo veramente dura cari avventurieri stavolta abbiamo incontrato un nemico alla nostra altezza se non oltre